Lo avevano promesso, stanchi di vedere quel monumento giocene in condizioni tanto degradate, i fanti da oggi sono all'opera in Prato Santa Caterina. Obiettivo, riportare all'antico splendore l'area dedicata ai ragazzi del 99. Ogni promessa è un debito ma soprattutto un impegno civile, concreto e quindi tutte queste persone, questi fanti sono a lavoro, sono all'opera in un luogo che ricordiamo ci ricorda i ragazzi del 99 e credo che ancora oggi il loro significato e la testimonianza sia un dovere per noi. Una quindicina, gli uomini impegnati da oggi nel restauro. Dobbiamo fare una stuccatura a tutti i giunti che c'erano di marmo, poi stuccare, mettere a posto le lapidi, i nomi che ci sono, permettendoci che ci sono parecchie giornate di lavoro perché sono tanti metri quadri di pietra da sistemare quindi ci sono parecchi giorni, comunque speriamo per la fine mese. Il monumento alle cure dei fanti ricorda i tanti giovani e giovanissimi che nemmeno diciottenni furono spediti al fronte nel primo conflitto mondiale. Una situazione che stride non poco con quanto proprio ai piedi di quel monumento intendevano fare centinaia di giovanissimi solo pochi giorni fa. Qui abbiamo un monumento dove ragazzi da tutta Italia hanno sacrificato la vita per un impegno, per un valore. I ragazzi di oggi per noia o per altro si danno appuntamento per suonarsele. Reste disposti voi proprio a vigilare Parco Ragazzi del 99 per evitare che episodi come quelli di sabato si possano ripetere? Noi rispondiamo presente.